Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. Due chilometri di coda per lavori anche tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno e sempre per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade, in A1 in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e rallentamenti tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Sempre in A1 rallentamenti in entrambe le direzioni pertemporali tra Valdarno e Arezzo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!